Recentemente ho avuto modo di smascherare veramente tanti integratori non provati scientificamente o addirittura in alcuni casi truffa per la perdita di grasso e in quei video abbiamo visto che la caffeina sia l'integratore più provato scientificamente aiutarci da un punto di vista di perdita di grasso e mi sono reso conto di non aver mai fatto un video dedicato solo alla caffeina e alle modalità che probabilmente la maggior parte delle persone non conosce su come andare ad utilizzare la caffeina per perdere grasso semplicemente perché una persona dice ma io mi bevo il caffè tutti i giorni non ho visto un aumento di perdita di grasso ecco non ti preoccupare c'è questo video qui per questo caffeina che come abbiamo però già visto in altri video va ad agire sulla dopamina e sull'epinefrina andando poi ad agire sui livelli di energia, sull'umore e anche come in questo caso sulla perdita di grasso caffeina che normalmente le persone magari sportive sia che facciano pesistica sia che facciano allenamenti di endurance qualsiasi, nuoto, ciclismo, arti marziali e così via sanno che comunque la caffeina possa andare a migliorare le proprie prestazioni sportive in aerobiche quindi per esempio i classici pesi o anche aerobiche lascia che mi presenti però giustamente magari la prima volta che vedi un mio video non sai chi io sia, il mio nome è Eduardo Baldini, sono il punto di riferimento di decine di migliaia di persone in campo integrazione perché? Perché su questo canale non ho mai promosso codici di sconto non ho mai fatto marchette a nessun brand integrazione, nessun brand mi ha pagato mai lo stipendio no qui andiamo a vedere a differenza della stragrande maggioranza dei venduti nei quali magari ti sei imbattuto o imbattuta ciò che gli studi scientifici ci dicono in continuo aggiornamento e lo andiamo ad applicare senza conflitti di interesse e ecco cosa c'è da dire? C'è da dire che quando una persona va a prendere la caffeina abbiamo visto ci possono essere degli importanti benefici ma mano a mano che una persona la va a prendere in modo continuativo gli effetti vengono via via a ridursi adesso stando alle informazioni scientifiche contrariamente a quanto si pensava in passato ok, sembrerebbe che anche una persona vada ad assumere la caffeina in modo continuativo non è che si arrivi ad un punto dove praticamente gli effetti positivi si annullino completamente quindi non è che io prendo la caffeina e non ho più benefici e questo ne abbiamo anche la conferma di persone che comunque regolarmente prendono il caffè e dopo aver preso il caffè che chiaramente contiene caffeina si sentono più energetici e magari lo prendono da 70 anni ok, quindi uno dice io non ho notato riduzioni in realtà le riduzioni ci sono ma non vi è un annullamento certo però è che la caffeina può comunque continuare ad impattare negativamente sul sonno a prescindere che una persona lo prenda la caffeina da un giorno o da 70 anni ecco, l'effetto sul sonno c'è sempre e per questo motivo adesso andremo a parlare di perdita di grasso è bene ricordarci che andare a prendere magari la caffeina per molte persone la sera o comunque nel pomeriggio potrebbe non essere la scelta migliore poi andremo a vedere il motivo per cui per alcune persone può benissimo andare ma per altre persone potrebbe non andare bene anche qualora si addormentassero velocemente ma poi si notassero che al mattino non si sentissero tanto riposati ecco, in quel caso lì la caffeina potrebbe aver influito negativamente magari non sul farti addormentare perché magari eri stanco, eri stanca e ti sei addormentato ma sui cicli del sonno e quindi su quanto profondo era il sonno e quindi quanto restaurativo era il sonno fra l'altro se non ti sei scritto hai già compreso di che qualità di informazioni stiamo parlando e non hai ancora visto nulla quindi se ti iscrivi così non ti perdi le prossime informazioni di tutti i video futuri e ecco, c'è da dire che la caffeina può andare ad impattare sulla perdita di grasso che poi è la tematica che ci interessa in due modi un effetto di breve termine ovvero andando ad incrementare il quantitativo di calorie bruciate quindi un effetto termogenico in quanto il corpo andrà a produrre più calore e questo è di breve entità nel senso che una volta presa la caffeina ho questo effetto e vi è anche un effetto di lungo periodo ovvero aumenta gli acidi grassi all'interno del nostro corpo quindi fra virgolette di grasso almeno ci comprendiamo perché qui parliamo alla portata di tutti ecco il più grasso in corpo questo grasso qui se si è in deficit calorico questo è importantissimo nel senso che la lipolise quindi il fatto che ci sia più grasso pronto per essere bruciato nel nostro corpo va bene se e solo se siamo in deficit calorico quindi devi essere certo devi essere certa di essere in deficit calorico ricordo che ho messo a disposizione un calcolatore completamente gratuito che ti dà le calorie di mantenimento una volta inserite le tue statistiche poi ci sottrai 500-1000 calorie da quello che il calcolatore ti dà e sei in deficit calorico magari non hai esperienza e vuoi provare il link te lo lascio comunque qui sotto o basta andare a questo riferimento qua e ecco praticamente andando ad aumentare la lipolisi siamo in una situazione migliore per bruciare il grasso quindi sarà la fonte migliore per il corpo per essere bruciata a scopo energetico e qui si spiega il motivo per cui magari tu mi dici edo io ho sempre preso la caffeina però non perdevo grasso è perché magari non eri in deficit calorico non sapevi esattamente quante calorie stavi assumendo e quindi magari eri in normo calorico o addirittura in surplus e quindi la caffeina non fa un bel niente da un punto di vista chiaramente di perdita di grasso poi da un punto di vista di energia di umore e tutto quanto di prestazioni sportive quello continua a funzionare ma da un punto di vista di perdita di grasso funziona se solo se si è in una fase di deficit calorico e prima poi di andarci ad addentrare sulle varie modalità d'assunzione è importante dire una cosa che come abbiamo detto gli effetti della caffeina si possono andare a ridurre gradualmente con il tempo e anche quello della perdita di grasso si può andare a ridurre gradualmente quindi io fossi in te se io fossi una persona che fa un grande utilizzo di caffeina cioè non mi bevo un espresso ma me ne bevo magari 3, 4, 5 in un giorno perché so che ci sono persone che vanno a fare questi grandi utilizzi di caffeina potrebbe valer la pena se il tuo obiettivo è quello di perdere grasso e inizierai una fase di deficit calorico eventualmente almeno ridurla un po' in modo tale che poi tu possa riaumentare il quantitativo poi non è necessario che tu utilizzi caffè e adesso poi ti spiego poi benissimo andare a utilizzare un integratore che è anche meglio e poi tu possa rincrementare il quantitativo di caffeina nel momento in cui sarai in deficit calorico per ottenere i massimi benefici perché magari tu essendo abituato a prendere tanta caffeina magari i benefici che potevi ottenere da un punto di vista lipolitico magari non li avrai o non li avrai così rilevanti come invece una persona che magari è meno abituata alla caffeina e quindi lei inizia a prendere e magari ottiene più risultati quindi come linea generale se si è una persona che utilizza tanta tanta caffeina quotidianamente scalare un po' non ti dico eliminarla scalarla un po' e poi riaumentarla nel momento in cui una persona dovesse entrare in deficit calorico ora prima di proseguire siccome hai già compreso di che livello di informazioni stiamo parlando e a una battaglia che io ormai conduco dal 2016 se una volta finito di vedere il video perché il video guardatelo tutto vorrei smettere di buttare via soldi in integratori inutili o una guida digitale ora te la faccio vedere fisica perché ogni tanto viene proposta anche fisica solo però per i membri ma perché te la do digitale? perché io di mese in mese la vado ad aggiornare con le ultime informazioni scientifiche perché? perché i libri che ti vendono sull'integrazione e non ti le aggiornano mai fanno schifo non servono a niente perché io lo aggiorno una volta al mese immaginati quelle persone che la vanno ad aggiornare una volta all'anno o una volta ogni due anni e così via no noi vogliamo andare ad avere un qualcosa di aggiornato e quindi c'è questa guida io te l'aggiorno di mese in mese ti spiega tutte le possibili combinazioni di integratori per aumento in massa muscolare perdite di grasso pre-workout post-workout per tutti gli sport ti parla però chiaramente anche di integratori per la salute della prostata per dormire meglio per lavorare meglio per avere più energia a 360 gradi minerali vitamine tutto quello che è necessario andare a sapere e in più ti fornisce le mie analisi in parziali quindi proprio l'elenco degli integratori che io consiglio in continuo aggiornamento perché analizzo i brand senza conflitti di interesse se sono validi li vado ad inserire qui e tutti i becchi tutti gli aggiornamenti gratis con il mio supporto a vita e quindi meglio di così non si può e io la pagina te la lascio giù nella descrizione e nei commenti e ecco quindi questo c'è da dire per quanto riguarda le modalità di utilizzo della caffeina innanzitutto c'è anche da dire prima non l'ho detto che potrebbe andare ad aiutare anche da un punto di vista di soppressione dell'appetito quindi della fame e questo potrebbe essere un ulteriore modo in cui la caffeina ci potrebbe andare ad aiutare quindi a darci una mano e in particolar modo parlando di modalità di utilizzo benché andare ad utilizzare il caffè possa essere un modo utile per raggiungere la quota di caffeina di cui adesso noi andremo a parlare tendenzialmente il modo più preciso per andarla ad utilizzare è sotto forma di un integratore di caffeina un integratore di caffeina che in linea generale sono tutti tutti molto economici e quindi a differenza della stragrande maggioranza dei composti bruciagrase che costano decine 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 di euro e poi non ti danno una mazza ecco che la caffeina ti riesce a comprare veramente tante pillole con qualche euro ok? cioè veramente tante pillole 9-10 euro una cosa di questo tipo hai un quantitativo importante e perché dico questo? perché un espresso può contenere un quantitativo di caffeina dai 50-70 milligrammi chiaramente se adesso noi andremo a parlare di dosaggio una persona magari per raggiungere il quantitativo giusto va a prendersi 6 caffè ecco che ci ballano dai 300 ai 420 milligrammi ok? di praticamente potenziale caffeina che è una bella differenza ora è vero che la caffeina potrebbe andare a contenere anche altre sostanze quindi principi attivi che potrebbero aiutarci ma per il momento ad oggi non vi sono dimostrazioni scientifiche quindi per semplicità è meglio dire vuoi utilizzare un caffè? lo utilizzi ma tienilo in considerazione all'interno del conteggio totale di caffeina che noi vogliamo andare a utilizzare ma se vuoi puntare ad essere preciso ad evitare potenziali effetti collaterali della caffeina di cui adesso non andremo a parlare probabilmente un integratore è molto più preciso e di nuovo sappiamo esattamente quanto andarne a prendere perché tendenzialmente la caffeina per una persona sana non ha effetti collaterali si può alzare un po' la pressione può aumentare i battiti cardiaci ma tendenzialmente su una persona sana poca roba può far andare al bagno più frequentemente quindi promuovere un po' la disidratazione infatti in questo caso magari se una persona va ad utilizzare questi quantitativi di caffeina è bene ma quella è una cosa generale che è buona assicurarsi libera abbastanza però ecco per una persona sana che non prende particolari farmaci e tutto quanto ci può stare e quando parliamo di dosaggio il dosaggio stando alle informazioni scientifiche va dai 100 ai 200 mg di caffeina per due volte al giorno quindi un quantitativo giornaliero che va dai 200 ai 400 mg ora si può andare a superare i 400 mg si tendenzialmente si potrebbe arrivare addirittura fino a 600 mg però soprattutto se una persona non ha mai utilizzato quantitativi così importanti di caffeina magari si beveva un caffè e basta è sempre bene partire con i dosaggi più bassi magari i classici 100 mg per due volte al giorno partire da lì e poi eventualmente andare ad incrementare tanto c'è sempre spazio per andare ad incrementare però poi se uno va ad utilizzare un dosaggio troppo alto senza averla mai testato magari c'è il rischio di avere effetti collaterali e quindi per tranquillità uno parte più basso se una persona invece più abituata alla caffeina può puntare a dosaggi anche più alte come dicevo 400 mg sicuramente un dosaggio che ad oggi risulta essere sicuro ma potremmo andare anche a puntare a dosaggi maggiori a 600 mg complessivi quindi a 300 mg divisi in due dosi e come l'ina generale è bene puntare ad utilizzare la caffeina nella parte finale di una fase di definizione quindi magari nell'ultimo mese nell'ultimo mese e mezzo quindi nelle ultime 6-8 settimane di una fase di deficit calorico piuttosto che all'inizio perché? perché all'inizio comunque nel momento in cui sistemeremo un attimo la nostra alimentazione quindi ci ritroveremo in deficit calorico il peso scenderà e quindi è meglio sfruttare gli effetti che come abbiamo detto non sono infiniti e non sono sempre sempre alti nel momento in cui ci serve di più e quindi normalmente nella fase più verso la fine di una fase di definizione dove magari le energie si iniziano ad abbassare la facilità che invece avevamo prima per perdere grasso inizia a diminuire e quindi in questo caso qua potrebbe aver senso e idealmente è bene andarla a prendere a stomaco vuoto quindi magari mi viene in mente una persona si alza prende la propria dose di caffeina magari dopo un'ora un'ora e mezzo mangia e poi magari la va a riprendere in un momento tra un passo e l'altro a metà magari dove sono già passate magari un po' di tempo qualche ora dal passo precedente passerà qualche ora dal passo successivo sempre a patto che una persona dica io se me la prendo di pomeriggio non ho problemi e quindi allora in quel caso se la puoi andare a prendere anche di pomeriggio idealmente però di sera è veramente strano che una persona non ne vada a subire gli effetti quantomeno non per addormentarsi come dicevamo prima ma per rimanere addormentati o per sentirsi riposati al mattino e quindi questa è la strategia per andarla ad utilizzare non è necessario andarla a prendere necessariamente durante il pre-workout sicuramente può aver senso come energia ok quindi come miglioramento delle prestazioni ma non è necessario andarla a prendere quindi pre-allenamento si può prendere quando si vuole idealmente meglio come dicevamo a digiuno anche se tenendo in considerazione che alcune persone che magari non hanno proprio la digestione semplice potrebbero riscontrare che magari a stomaco vuoto non riescono in quel caso ci avranno un po' meno di effetti ci avranno un picco meno velocemente ma si può andare a prendere anche con un pasto quindi sì le persone che sono abituate a prendere il caffè dopo il pasto possono stare tranquille perché comunque un po' di effetti li avranno anche loro ora cosa c'è da dire c'è da dire che non tutte le persone però reagiscono alla caffeina nello stesso identico modo ovvero ci sono persone che riescono a smaltire e hanno un tempo di dimezzamento della caffeina molto più veloce e persone che la hanno molto più lenta e questo è il motivo per cui alcune persone se la prendono il pomeriggio non hanno problemi e altre persone se la prendono il pomeriggio hanno problemi e questo diciamo è legato al discorso di sensibilità alla caffeina non tutti hanno la stessa sensibilità in linea generale il tempo di dimezzamento della caffeina è 5-6 ore però come dicevamo ci sono persone che la smaltiscono molto più velocemente e qui mi ricollego a un punto molto interessante di un integratore di cui ho parlato anche recentemente che è la teanina la teanina è un integratore molto interessante da andare ad abbinare alla caffeina perché? perché praticamente la teanina va ad eliminare o quantomeno a ridurre in modo importante gli effetti collaterali della caffeina riguardanti l'iperattività l'ansia lo stress che alcune persone potrebbero riscontrare andando a prendere degli stimolanti come per esempio la caffeina o un altro integratore che abbiamo visto possa aver senso durante una fase di definizione che è la ioembina integratore che può essere interessante soprattutto per l'eliminazione del grasso ostinato e quindi entrambi essendo stimolanti possono essere abbinati bene alla teanina che mantiene gli effetti positivi brucia grassi di energia e di rumore di focus di prestazioni quindi tutti gli effetti benefici positivi rimangono ma gli effetti negativi si riducono vengono eliminati e questo può essere interessante e in più la teanina ha anche dei benefici a livello cognitivo e quindi non solo ci elimina potenzialmente gli effetti negativi ma ci può potenziare quindi dare più effetti insieme a quelli già ottenuti a livello cognitivo dalla caffeina quindi non solo è sinergico non ci dà dei benefici da un punto di vista di perdita di grasso ma da un punto di vista cognitivo ci aiuta che in una fase di definizione quando le energie magari sono basse male non fa e schifo non fa e quindi può essere interessante e tutto questo quindi la nostra teanina e la teanina come la vorremmo andare a prendere la teanina vogliamo andare a prendere con un dosaggio equivalente rispetto a quello della caffeina quindi vado a prendere 200 mg per due volte al giorno di caffeina mi vado a prendere 200 mg di teanina due volte al giorno 200 mg se me ne vado a prendere 100 e 100 mi vado a prendere 100 e 100 mg di teanina in questo modo qua ad oggi risulterebbe essere la migliore modalità per abbattere gli effetti collaterali e quindi abbiamo visto che caffeina ottimo ingrediente ci può aiutare insieme alla teanina ci abbassa eventuali problemi io in bina per chi riesce a metterci le mani sopra perché in Italia la vendita non è libera e quindi va ordinata da fuori se una persona se la vuole andare ad ordinare da fuori in più cosa ci può andare ad abbinare le GCG che è una catechina derivante dal tè che come abbiamo visto a 500 mg giornalieri insieme a io in bina insieme a caffeina e la teanina che ci aiuta a mantenere i potenziali effetti collaterali degli stimolanti può andarci ad aiutare a promuovere la perdita di grasso che dire è stato veramente un bel video denso infatti inizialmente doveva essere un video molto breve invece ho voluto dare più informazioni possibili immaginati quante informazioni pratiche pronte all'utilizzo step by step ci siano all'interno della rivoluzione sull'integrazione che chiaramente è l'apice tutte le modalità di utilizzo modalità dosaggi tutto quello che ti serve in X pronti all'utilizzo per ogni beneficio perdita di grasso aumento di massa muscolare per tutti gli sport salute del cuore della pelle del fegato dei reni della prostata parliamo di tutto per i natural per i non per l'uomo per la donna ventenni quarantenni ottantenni parliamo di tutto in continuo aggiornamento la guida come dicevo è digitale in modo tale che io tutti gli aggiornamenti te li possa fornire e tu abbia una guida in continuo aggiornamento paghi una volta ci sono persone che sono dentro da 5 anni se le beccano sempre continuamente gratuiti in più ti vado a dire io gli integratori che ti consiglio per ciascuna categoria di composti in modo tale che tu non debba stare ad ascoltare l'influencer scappati di casa vicidini con il codicino sconto tutta quella roba lì tutta imparziale senza conflitti di interesse meglio di così non si può con il mio supporto a vita è veramente meglio di così non c'è niente la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti c'è anche il pacchetto personalizzato per chi non si voglia nemmeno leggere la guida voglia fatto già tutto da me la pagina te la lascio giù in descrizione nei commenti e se hai delle domande sui miei percorsi sui miei servizi su come funzionassero scrivi a questi riferimenti qua numero whatsapp ed email ti risponderà Alessandro e Maddalena a tutte le domande del caso noi come sempre ci vediamo tutti genna luna sempre su questo canale ciao a tutti peace